Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo appuntamento con spazio per tutti. Sì, è l'ultimo perché andremo in pausa estiva. Io sono Marco del gruppo Astrofili Savonesi e questa sera abbiamo con noi Albino Carbogiani dall'INAF e Paolo Bacci dall'UAI e parleranno di un argomento molto intrigante che è rischi asteroidi. Grazie della linea Marco. Questa sera abbiamo due ospiti, due relatori. Abbiamo deciso di parlare di asteroidi e ve li presento subito. Sono Albino Carbogiani e Paolo Bacci, astrofilo, ma direi astronomo amatoriale dell'Unione Astrofili Italiana. L'ho definito appunto un astronomo amatoriale perché fra poco, poi quando vedremo la sua presentazione, fa dei lavori di grande livello che sono di grande aiuto per i professionisti. Paolo Bacci, pur essendo non un professionista, ha contribuito insieme ad Albino anche a scoprire asteroidi o scoprire l'anello che è intorno al pianeta nano Aumea, una pubblicazione che è stata data poi sulla rivista Nature. Quindi abbiamo due ricercatori di grande livello. Grazie a tutti, ringrazio le associazioni liberi per questo invito, perché insomma è un onore e soprattutto è un onore parlare dopo appunto Albino Carbogiani. Io in questo breve intervento cercherò di far vedere qual è il contributo degli astrofili in questo campo, appunto nello studio degli asteroidi. Vorrei iniziare con un personaggio che purtroppo, vediamo un attimo se vi parte la presentazione, eccolo qua, sì, allora, mi fa problemi la presentazione, va bene, ok. Vorrei presentare appunto Casulli che è recentemente scorparso, ma lui è diciamo uno dei tanti esempi di astrofili italiani che hanno contribuito allo studio appunto degli asteroidi. Ne ha scoperti 194, ha ottenuto 203 curve di luce, è stato il primo astrofilo al mondo a utilizzare i CCTV, quindi diciamo queste macchine fotografiche che vengono utilizzate dagli astrofili e non solo, in questo caso per lo studio degli asteroidi. Perché partire come Casulli? Perché Casulli un po' rappresenta anche quello che sta avvenendo in Italia da decenni. L'Italia è una, probabilmente è la prima nazione, o al massimo la seconda nazione al mondo, che ha come numero di astrofili che si dedicano appunto allo studio degli asteroidi. E cosa facciamo noi? Gli astrofili per gli asteroidi cosa fanno? Beh, il contributo scientifico che noi possiamo dare è l'astrometria, la fotometria, le occultazioni asteroitali e in qualche caso la spettografia. Beh, l'astrometria non è altro che la misura di posizione dell'asteroide nel cielo. Quindi, cos'è successo in questi anni? Che praticamente, diciamo negli anni d'oro, in cui diciamo da 90 fino al 2010 più o meno, tantissimi astrofili italiani si dedicavano proprio alla scoperta degli asteroidi. Quindi effettuavano delle immagini e cercavano appunto di scoprirne di nuovi. E quindi effettivamente tantissimi italiani hanno contribuito in questo tipo di attività. Poi nasce quello che appunto abbiamo visto prima con il grafico di Albino, nasce il progetto Space Guard e fine dei giochi. diciamo che incominciano a partire questi stereoscopi automatizzati, sempre più potenti, più efficaci, e quindi per gli astrofili è sempre stato più difficile, e tuttora è molto difficile, poter scoprire un nuovo asteroide. Allora, cos'è successo? Anche l'astrofilo comunque si è evoluto e ha iniziato, non solo a ricercare gli asteroidi, ma a fare quello che viene chiamato il follow-up, cioè seguire degli asteroidi già conosciuti. Indubbiamente, come abbiamo visto dalla presentazione di Albino, gli asteroidi che più ci interessano fondamentalmente sono quegli asteroidi che passano vicino alla Terra. E proprio per questo, in questa attività, stiamo cercando di dare il nostro contributo. Poi recentemente, proprio nel 2020, è nato un altro progetto che si chiama NeuroXa, che è dell'ESA, dove appunto si può partecipare per seguire degli oggetti che sono stati scoperti da qualche giorno, oppure alcuni scoperti da alcuni anni che poi ripassano e quindi sono osservabili, per cercare di determinare l'orbita dell'asteroide. Cioè, tutto il lavoro che viene fatto per quanto riguarda l'astronometria è fondamentalmente indirizzato a cercare di determinare l'orbita di questi oggetti per appunto capire dove questi possono andare. Ovviamente, ultimamente, una delle attività principali che viene svolta dall'astrofilo è appunto il follow-up dei NeoCP, ovvero, prima Albino ce l'ha fatta vedere, c'è una pagina del Minor Panel Center dove ogni giorno vengono messi un certo numero di asteroidi, delle volte si parla anche di 80-90 asteroidi, che vengono scoperti da questi telescopi automatici, in modo particolare, a quei due telescopi americani, che loro cosa fanno? Scrutano il cielo, ovviamente scoprono l'asteroide, però hanno un programma osservativo che non li permette inizialmente di seguirli. Quindi, una volta che questi oggetti vengono scoperti, vengono messi in questa pagina del Minor Panel Center che è accessibile a tutti, e quindi un astrofilo che si dedica a questo tipo di attività sceglie il suo target, in base ovviamente alla sua strumentazione, e fa fare le misure di posizione. Questo è un lavoro importantissimo, perché? Perché ti permette di, in quanto meno, di riuscire a determinare in modo molto approssimativo l'orbita. Considerate che questi, ripeto, questi asteroidi vengono scoperti il giorno stesso, quindi noi, quando andiamo ad osservare questo oggetto, si sta parlando di un oggetto scoperto da 12-14 ore prima. E quindi, questo tipo di attività è importante. Gianni Galli, in un meeting che abbiamo fatto dell'Uai, appunto, della sezione asteroide dell'Uai, raccoglie puntualmente ogni anno l'attività che viene fatto dagli astrofili italiani, e circa il 20% di MPEC riportano la firma di un astrofilo italiano. Cos'è un MPEC? Quando un asteroide che viene in questa lista del NeocP risulta essere un NEA, quindi ha le caratteristiche orbitali di un NEA, esce una circolare, praticamente una, chiamiamola così, una piccola pubblicazione, un annuncio della scoperta di un nuovo NEA. Ecco, in queste pubblicazioni che per esempio nel 2020 ce ne state 3.000, 615 sono state fatte da italiani. Ora bisogna anche considerare che nell'ultimo tempo abbiamo avuto problemi anche con la pandemia, per cui alcuni non sono potuti andare all'osservatorio, però fondamentalmente diamo un contributo fondamentale a questo tipo di attività. Questo appunto ci fa capire quanto anche un astrofilo puro, essendo, io dico sempre che noi astrofili siamo gli osservatori del cielo, i nostri dati poi vanno in mano a protezionisti come Albino Carboneali e tanti altri che poi elaborano i dati e appunto poi ci vengono a raccontare quello che appunto Albino ci ha raccontato. Però questa attività ovviamente ci permette e permette all'astrofilo di avere tante soddisfazioni. Beh, alcune soddisfazioni per modo di dire un'astrometria di follow up è il famoso 2008 TC3. 2008 TC3 è stato il primo asteroide scoperto che ha impattato sulla Terra. Si è verificato il 7 ottobre dell'appunto del 2008 è stato scoperto 22 ore prima. Poi questo oggetto piccolo oggetto di 3 metri è andato a impattare sui cieli del Sudan ma molti osservatori italiani lo hanno seguito e hanno contribuito appunto a determinare in modo più preciso l'orbita e quindi poter capire dove questo oggetto andava a collidere in atmosfera. È un altro oggetto interessante per modo di dire è stato scoperto nel 2020 che è il primo a tira cioè sono oggetti che hanno non hanno probabilità di impatto al momento con la Terra perché loro ruotano all'interno dell'orbita terrestre. In questo caso questo piccolo asteroide ruota all'interno dell'orbita di Venere e questo ovviamente è stato osservato scoperto dalle survey e poi alcuni astrofini italiani si sono messi lì e sono riusciti insieme a altri ovviamente hanno determinato l'orbita e quindi praticamente abbiamo determinato che questo è un oggetto praticamente peculiare perché insomma non ce ne sono tanti. Indubbiamente forse il primo oggetto interstellare cioè quindi un oggetto che non proviene dal sistema solare ma che proviene dall'altro sistema e per la prima volta entra all'interno del sistema solare è stato scoperto dal Panstar e è stato confermato cioè i primi osservatori a vederlo sono stati degli astrofidi poi successivamente è stato osservato da altri telescopi professionali quando si è capito che la sua orbita era un'orbita iperbolica per cui era chiaro che venisse appunto fosse un oggetto che venisse fuori dal dal sistema solare ovviamente tutti i telescopi principali a terra hanno provato a misurarlo e quindi a cercare di determinare l'orbita e magari anche alcune caratteristiche è altro oggetto interessante se è sempre stato il secondo oggetto interstellare in questo caso è più che evidente che fosse una cometa questo oggetto è stato scoperto da un astrofilo appunto da Borisov e le prime osservazioni di flow up furono fatte proprio dagli astrofili perché? perché questo oggetto era visibile praticamente poco alto sull'orizzonte per cui i telescopi professionali non tutti hanno la capacità di poter osservare a certe declinazioni per cui avevano grosse difficoltà mentre gli astrofili che sono un attimino più agevoli addirittura per modellire ci sono state alcuni astrofili che hanno spostato delle piante altri li hanno proprio tagliati i rami per poter osservare da quanto era basto però grazie a questo contributo è stato possibile determinare che questa cometa effettivamente era un'altra crometa intestellare dunque vediamo se si va avanti ok ci sono poi degli oggetti che vengono scoperti e che inizialmente dalle poche misure che abbiamo a disposizione vengono così classificati come virtual impact ovvero oggetti che hanno una probabilità purché minima di impattare con la terra per cui è richiesto ovviamente ulteriori osservazioni ed ecco in questo caso qui è un sasso un pochettino vecchio perché è del 2012 questo qua però per modo di dire e anche in questo caso qui gli astrofili possono contribuire perché abbiamo la possibilità di poter osservare il cielo quando vogliamo insomma alla fin fine diversamente dalle starter che hanno in genere dei programmi molto stringenti di osservazione della volta celeste e in alcuni casi possiamo anche divertirci qui in modo molto più didattico ma interessante questo anche da un punto divulgativo a calcolare la distanza con il medico della parallasse ovvero osservatori dislocati in varie parti dell'Italia se non addirittura del mondo osservano in contemporanea lo stesso asteroide ed è possibile con delle formuline abbastanza semplici determinarne della distanza queste sono attività di astrometria e quindi che ci permettano di misurare la posizione della volta celeste dell'asteroide appunto per poi riuscire a determinare in modo più possibile preciso l'orbita dell'asteroide una volta che noi sappiamo l'orbita dell'asteroide sappiamo dove e dove questo si trova in un determinato periodo di tempo sia futuro che in alcuni casi anche precedente un'altra attività molto importante è la fotometria la fotometria non è altro che lo studio della luce riflessa dell'asteroide quindi una luce solare e questa cambia in base alla rotazione stessa dell'asteroide quindi come possiamo vedere in queste animazioni l'asteroide ruota su se stesso a noi ci mostra una faccia che è più grande o più piccola e quindi avremo un flusso luminoso maggiore o minore con questo tipo di studio che è uno studio fotometrico noi possiamo determinare il periodo di rotazione ovvero determinare in quanto l'asteroide fa un giro su se stesso alcuni casi per esempio il problematico poteva essere questo qui il famoso 2002 era un asteroide che era oggetto doveva essere oggetto della missione di impact per cui più informazioni si potevano avere di questo asteroide meglio era e gli astrofili sono riusciti a determinare il periodo di rotazione poi questa missione è stata annullata perché la vimpaca aveva finito il carburante per cui non se ne è fatto niente però fino allora non si conosceva il periodo di rotazione e quindi gli astrofili poi ovviamente anche i professionisti lo hanno fatto sono riusciti a determinare alcune caratteristiche appunto il periodo di rotazione cosa succede noi abbiamo quando determiniamo il periodo di rotazione e mettiamo in un grafico tutti questi dati vediamo una cosa che è abbastanza interessante allora in questa parte qua in alto a sinistra ci sono gli asteroidi che hanno un diametro inferiore a 150 metri quindi gli asteroidi di cui parlava Albino che hanno un periodo di rotazione di norma inferiore alle due ore mentre la stragrande maggioranza di asteroidi in basso a destra hanno una specie di barriera appunto si chiama la spin barrier praticamente asteroidi che ruotano con un periodo maggiore alle due ore e non ce ne sono se ne conoscano veramente pochi quindi qui sono tutte le curve di luce finora ottenute messe qua è questa barriera è un caso particolare appunto del 2011 UV 158 questo tra l'altro è un'osservazione che mi fu suggerita proprio da Albino Carboniani ha partecipato anche un altro astrofito italiano Giorgio Bai ha partecipato un un inglese se non sbaglio anche un anche un australiano è stato determinato il periodo di rotazione e curiosamente in base alle dimensioni delle asteroide si va a collocare in una zona dove praticamente non ci sono asteroidi una zona un po' particolare cioè è abbastanza grande però ruota con un periodo molto breve queste sono informazioni importanti che poi appunto i professionisti riescono a studiarci e determinare cercare di capire anche la loro composizione qui è stata creata è stata realizzata più o meno la forma di questo oggetto è un oggetto molto allungato va detto che tra gli oggetti molto allungati appunto c'è il primo oggetto intestellare e poi appunto questo asteroide qua il UV 158 cioè praticamente per dire che delle volte anche facendo determinati tipi di osservazioni si possono andare a trovare oggetti peculiari e questi qui e anche in questo caso è in dubbio che l'apporto di astrofili è importante abbiamo iniziato con Casulli e Casulli aveva e ha un asteroide a lui intitolato si conosceva il periodo di rotazione come gruppo italiano di astrofili che si dedicano all'astronometria abbiamo deciso di osservarlo per determinare i periodi di rotazione ma a un certo punto abbiamo visto che questa curva non era così semplice lineare come ci si aspettava difatti vedete qui ci sono dei punti molto più in basso e con una serie di verifiche è stato determinato appunto che Casulli è binario cioè Casulli ha un satellite che li ruota intorno e questa è una scoperta fatta solo ed esclusivamente da astrofili italiani appunto nel 2020 quindi abbastanza recentemente questo cosa dire perché effettivamente anche le astrofili possono dare sempre un loro contributo un altro asteroide molto interessante è stato il passaggio ravvicinato di Florence un passaggio ravvicinato che è stato molto pubblicizzato su media perché è un NEA che si è avvicinato anzi in realtà un PHA quindi potenzialmente pericoloso che si è avvicinato alla Terra si è avvicinato alla Terra e noi come gruppo di astrofili lo abbiamo seguito ovviamente l'abbiamo misurato come astrometria quindi misura di disposizione ma abbiamo fatto anche la fotometria ottenendo una serie di indicazioni utilizzando anche filtri addirittura utilizzando anche lo spetto grazie a Lorenzo Franco che poi dopo lui ha preso tutti i dati e l'ha riunito insieme e siamo riusciti a caratterizzare l'asteroide e quindi determinare la forma ma anche a determinare diciamo a grandi linee che tipo di asteroide fosse cioè è un asteroide di tipo carbonaceo le occultazioni le occultazioni sono fenomeni che si verificano quando un asteroide passa davanti alla stella qui vedete questo grafico qua vedete l'asteroide che si muove e passa davanti alla stella guardate questa stellina che a un certo punto sparisce la stellina sparisce perché l'asteroide passa sopra e la occulta tipo un'eclisse e poi ritorna dalla sua luce quindi noi misuriamo la durata diciamo così della sparizione della stella o della diminuzione della magnitudine se questo fenomeno di occultazione viene osservato da più osservatori abbiamo delle informazioni che si chiamano ricaviamo delle corde ecco questo è un altro caso di Ninina fatto recentemente quindi qui ci sono tutti gli osservatori che osservano ogni osservatorio vede sparire la stella per un determinato periodo di tempo si creano le corde ed è possibile determinare appunto sia la forma che il diametro dell'asteroide in questo caso abbiamo determinato che l'asteroide ha una lunghezza di circa 119 km per 90 queste informazioni messe insieme alle curve di luce effettuate magari precedentemente permettono di caratterizzare ancora di più un asteroide indubbiamente una delle occultazioni di cui insomma sono stato fortunato perché ho partecipato a questa campagna è stata l'occultazione di Omea l'occultazione di Omea ecco vediamo qui che praticamente Omea si muove raggiunge la stella a un certo punto l'occulta e praticamente qua si vede appunto che c'è una diminuzione di luminosità in realtà in questa circostanza non siamo stati fortunati perché abbiamo trovato una precedente calo di luminosità che poi tra pochino vedremo a cosa è data sono state fatte queste sono tutti gli osservatori tra l'altro qui c'era anche Albino Carboniani però lui è stato sfortunato perché si è venuto a trovare fuori dall'eclisse appunto da dove era possibile vedere questo tipo di occultazione come si vede c'è Montaiale l'Aiatico c'è l'osservatorio di San Marcello e Asiago quindi una gran parte di osservatori sono amatoriali e questo ci ha permesso ci ha permesso i professionisti di determinare che intorno a Omea c'è un anello un anello che attualmente è l'anello più lontano dal sistema solare perché questo oggetto si trova a 50 unità astronomiche cioè 50 volte la distanza che c'è tra la Terra e il Sole allora ovviamente questo ha avuto un grande successo è stato pubblicato come diceva all'inizio Luigi su Nature e una cosa importante è che le sue dimensioni sono state sono cambiate si pensava che fosse più piccolo invece a un diametro di quasi 2500 chilometri e la forma già si conosceva che era allungata però quindi praticamente questo oggetto che ha gli anelli tra l'altro è l'unico oggetto allungato che ha questa forma e lo sale che conosciamo che abbia un anello questa è una foto celebrativa ce l'ho messa perché giustamente c'era anche Albino che ha partecipato a questa campagna e qui voglio introdurre voglio terminare questo mio breve intervento però questo tipo di attività indubbiamente è dovuto bisogna farlo con la condizione che dietro di noi abbiamo alle spalle dei professionisti perché indubbiamente senza l'aiuto di tanti professionisti qui abbiamo Bernardi scopritore di Apophis e di una cometa Boattini è astronomo che lavorava a una di queste survey che appunto si diceva prima che ha scoperto 27 comete qui c'è il team anche questo team qua di astronomi professionisti di Martino e altro cioè per noi astrofili è importante avere un canale con questi professionisti perché grazie a loro possiamo siamo indirizzati e non solo ma ci danno le conoscenze e i consigli per ottenere quello che noi oggettivamente siamo in grado di ottenere questo tipo di attività effettivamente può essere fatta anche con strumenti non necessariamente grandi con il bastano telescopi da 25 cm un cielo buio e si può contribuire effettivamente per fare scienza e dare un contributo all'astronomia e in modo particolare allo studio degli asteroidi io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione se ci sono domande bene sì grazie grazie Paolo e Valerio invece chiede penso a Paolo perché se ho visto bene non esiste la risonanza 8 a 3 la risonanza 8 a 3 esiste però non è va bene Albino vai rispondi no no vai pure tu non è un problema vai 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 no no ci mancherebbe la risonanza 8 a 3 aspetta la risonanza 8 a 3 nella nella fascia principale sì 8 giri di Giove equivalgono 8 anni sì adesso dovrei andare a recuperare la no 8 giri di Giove equivalgono 88 anni che mi sembra un po' un po' troppo devo andarmi a recuperare la la diapositiva che adesso avevo chiuso quindi non so più dove l'ho messa se intanto vuoi dire qualcosa se non tutte le risonanze con Giove hanno hanno la stessa influenza perché nel momento in cui un asteroide fa il giro e Giove fa il giro quando si ritrovano sono in una posizione che non riesce a spiegere perché se no tecnicamente si potrebbe fare tantissimi tipi di risonanze no ci sono alcune più efficaci esatto alcune più efficaci altre meno efficaci sì c'era la 7-3 la 8-3 beh sì in effetti qui erano segnate solo quelle maggiori la 8-3 mi sa che è molto meno efficace c'è un piccolo gap ok adesso dovrei anche calcolare a quanto è equivalente unità astronomiche diciamo queste qui erano le lacune principali poi in realtà ce ne sono anche più piccole quindi diciamo dove il svuotamento appiene in modo meno efficace e quindi sì probabilmente c'è anche la 8-3 qui erano segnate solamente le principali poi ci sono alcune con Saturna no 8-3 8 rotazioni dell'asteroide scusa io pensavo 8 rotazioni di Giove stavo pensando 88 anni mi sembrano un po' tanti ok d'accordo 3 Giove 8 ok 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 no no va bene sì in realtà c'è anche la 8-3 qui non era segnata ci sono dei gap minori che non sono indicati qui sono stati indicati solamente i gap più grandi spiego meglio eventualmente nel senso che mi stupiva mi sentite sì sì sono io che ho fatto la domanda sull'auto 3 perché l'auto 3 dovrebbe l'auto 3 dovrebbe essere compresa tra la 3-1 e la e la 5-2 quindi perché il rapporto è 2-66 quindi essendoci la 3-1 la 5-2 addirittura la 7-3 la 2-1 mi stupiva e mi stupisce ancora che non ci sia l'auto 3 o che sia così poco significativa questa è la domanda sì beh può succedere evidentemente può esserci anche se al momento non ti saprei proprio dire perché la 8-3 è meno importante delle altre ma evidentemente dai dati osservativi questo si vince non ti saprei dire al momento proprio non mi viene in mente il fenomeno fisico per sapertela giustificare però ci penso lasciami le mail magari poi te le mando le mail dimmi Paolo volevi dire qualcosa no no non tutte le risonanze hanno la stessa efficacia in determinate aree per esempio ora il vino non ce l'ha messa ma ci sono alcune il vino poi insomma questo mi integna perché non parlate da lui ci sono le risonanze secolari ce n'è alcune che effettivamente hanno più sono più efficienti rispetto a delle risonanze di Giove no e questa è tutta una dinamica che evidentemente va approfondita va approfondita e credo che anche ci sia un discorso di eccentricità delle varie orbite quindi sia di Giove che non sono orbite perfettamente circolari per cui anche quelli fanno influenzare nel tipo di risonanza che ha maggiore effetto e minore effetto sì comunque dovrei andare a vedere i sacri testi per così a bruciapelo non mi vi in mente un buon motivo però probabilmente c'è grazie grazie e niente abbiamo esaurito le domande quindi prima di salutare tutti lasciavo un attimino la parola a Sandro Zappatore che voleva dire due cose Sandro se vuoi andare tu poi passiamo la parola a Paolo ok buonasera a tutti ringrazio gli oratori e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in questo esperimento di eventi e di iniziative congiunte che direi che alla fine di questo semestre è andato posso dire che è andato bene è stato di successo ne approfitto di prima di lasciare la parola a Paola di ringraziare tutti quelli che insieme a me hanno coordinato la parte tecnica quindi a te Marco non solo per aver presentato ma anche per aver curato la grafica del di questa iniziativa ringrazio il anche Fabrizio Biancardi che ha collaborato con te sulla parte grafica per quanto riguarda ad esempio la sigla ma non solo ringrazio Letizia che ci ha dato un supporto per la regia Zoom che sta sempre dietro le quinte come un po' come sottoscritto dovendo un po' scegliere valutare la qualità di quello che viene messo ritrasmesso e poi registrato e con questo e anche Roberto Porro che mi ha dato una mano a ottimizzare diciamo tutto quello che viene ritrasmesso sui canali social nostri cioè del gruppo astrofili savonesi e poi in cascata su quello su quello del gruppo sul canale youtube dell'associazione Polaris mi auguro che questa operazione possa essere ripetuta l'anno prossimo diciamo col nuovo anno che almeno per noi ripartirà almeno nelle mie intenzioni dovrebbe ripartire per settembre gli oratori sono stati splendidi in tutte le occasioni hanno intrattenuto il pubblico in maniera assolutamente elogiabile abbiamo sempre superato le cento presenze per ogni intervento e quindi direi che l'iniziativa è un'iniziativa di successo anzi da allargare e riproporre semmai con qualche novità questo è tutto lascio la parola a Paola che la vedo qui sul mio schermo vai Paola devi aprire il microfono adesso chiedo alla regia di sbloccarti il microfono ora mi sentite perfetto io mi associo completamente a quello che ha detto Sandro ringrazio veramente col cuore in mano i nostri due relatori di stasera Albino Carvognani Paolo Baci è stata un'interessantissima conferenza bella sotto ogni punto di vista sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista astrofilo amatoriale che poi più che astrofilo amatoriale è un astrofilo molto professionale anche lui e volevo ringraziare veramente tutti mi associo anche con Sandro tutti i ringraziamenti a chi ha ideato questa bellissima collaborazione tra le nostre due associazioni a tutti coloro che hanno lavorato assiduamente per fare in modo che questo diventasse realtà è una bella realtà per tante persone ovviamente il nostro presidente Luigi Maria Bernardi anche lui mi ha detto di portarvi i suoi saluti i suoi ringraziamenti è molto dispiaciuto di non essere potuto intervenire stasera ma per motivi familiari di lavoro insomma è partito e era andato alla spezia diciamo quindi non non poteva esserci e ringrazio ovviamente tutti tutti coloro che ci hanno seguito in questi lunghi lunghi mesi in questi bellissimi venerdì questi bellissimi venerdì e auguro una una serena pausa estiva e con la speranza di rivederci presso tutti a settembre ottobre no in modo da rendere ancora più unito ancora più bella questa nostra esperienza di spazio per tutti avete qualcosa da dire anche voi io sono sono contenta e sono e sono onorata di far parte di questo bellissimo gruppo di persone di spazio per l'anima di spazio per l'anima di spazio per l'anima di spazio per l'anima